Se la maggioranza rimane questa, che sia Conte Ter, che ormai la faccia l'ha persa già col bis o sia qualcun altro, non cambia la situazione. Io vorrei tornare alle parole di Lavia, che ha centrato un punto per poi svicolare immediatamente. Cioè, noi stiamo approvando quello che ci hanno raccontato essere il piano epocale, il piano Marshall, la cosa più importante. Ora, io sulla retorica che è stata caricata su Recovery Fund o Recovery Plan ho sempre avuto i miei dubbi, però non c'è ombra di dubbio che stiamo maneggiando una certa quantità di soldi e stiamo pianificando come spenderli. Quindi, una cosa importante. Cioè, la proviamo al buio, praticamente, senza neanche aver visto ancora le bozze, in gran parte dei parlamentari, nel giro di 12 ore. Ma questo è un metodo di governo. Dopodiché Lavia dice, dopo si aprirà una crisi politica. Ma come dopo? Se non la si apre su questo? Su che cosa la si apre? Che cosa vuol dire mettere in sicurezza un piano che non sappiamo neanche che cos'è e che, peraltro, ci vincolerà per i prossimi 5-6 anni? O addirittura 20, come dicono gli euro-retorici. Che cosa... Cioè, questo è un sistema di governo. La legge più importante dello Stato, che è la legge di bilancio, per due anni di file, è stata approvata esattamente in questo modo. Cioè, arrivando all'ultimo momento, ponendo una fiducia e facendola passare così, senza che né i dissidenti, diciamo così, di maggioranza, né le opposizioni potessero metterci becco. A questo aggiungete che è quasi un anno che veniamo governati e vengono calpestate le nostre libertà costituzionali a colpi di DPCM, cioè una cosa amministrativa. Voi capite che qui si sta ponendo un problema di democrazia in Italia. E noi, di fronte a questo, siamo qua che pensiamo se per caso facciamo il Conte Ter oppure Franceschini e se per caso è meglio aprire la crisi prima o dopo l'approvazione del recovery. A me sembra che siamo diventati tutti matti. C'è un problema gigantesco di democrazia che deve essere posto, perché se non lo poniamo andiamo a sbattere. Ma non è solo una questione di soldi. Ripeto, stiamo governando un paese a colpi di DPCM, abbiamo la gente che sta diventando matta, ci sono i primi suicidi economici, ovviamente, e a fronte, peraltro, di risultati disastrosi. Siamo il peggior paese del mondo in rapporto numero di morti per milioni di abitanti. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del Conte Ter. Ma queste devono andare a casa, l'unica soluzione possibile. Devevano andare a casa, ma domani devono andare a casa. Io non credo... No, no, tu sei stato chiarissimo. Voglio dire, io non so se io personalmente sono, come tanti altri, appassionato di Conte Ter o meno. Quello che però mi pare chiaro, lampante agli occhi di tutti, è che tu dici che questo governo deve andare a casa. Benissimo, posizione assolutamente legittima. Quello però che è chiaro è che se questo governo e questa maggioranza, non so con quale formula, dovessero proseguire la legislatura, certo non si può andare avanti con queste divisioni e queste fibrillazioni, perché mi pare che poi l'azione stessa di governo, recovery o meno, è completamente o quasi completamente paralizzata. Spesso è meglio che non facciano niente piuttosto che quello che fanno. Questo non lo so, poi ogni opinione è legittima. Quello che voglio dire è, lo diciamo plasticamente, torno un attimo dal professor Cassese.